Domani sabato 30 aprile parte ufficialmente la stagione balneare sulla regione Marche e questa è la data designata dall'amministrazione regionale in base alle analisi chimiche e scientifiche sulle acque effettuate dall'ARPAM, acque di alta qualità e dunque si può fare il bagno da domani. Naturalmente le temperature non sono proprio delle più agevoli, anche se c'è chi già un bagno se l'è consentito oggi e da domani è possibile cominciare l'allestimento degli stabilimenti balneari. Appaiono i primi lettini, davvero pochi perché ancora la stagione è lontana dal partire per quello che riguarda gli stabilimenti. Tanti preparativi in corso, tante novità per quella che è una stagione che ha il sapore della ripartenza, tra distanziamento che viene abbattuto tra gli ombrelloni e tra altre problematiche come quelle dei ripascimenti. Tematiche che abbiamo analizzato con il presidente di CNA nazionale Balneari Sabina Cardinali, nonché titolare di Bagnitino. Il 30 aprile inizia la stagione in Balneari, quindi possiamo affittare lettini e ombrelloni, anche se con queste temperature ancora basta un lettino e un appoggio. Siamo carichi, siamo pronti a una nuova stagione, anche questa volta più serena grazie ai vaccini, grazie comunque a una situazione Covid stabilizzata, molte misure che vengono tolte, compreso il distanziamento fra gli ombrelloni. Infatti tutti chiedono ma quest'anno come saremo, come non saremo. La regione Marche ha dato possibilità comunque di togliere, così come la legge a livello nazionale, questo distanziamento che era previsto, questo distanziamento minimo, anche se molti operatori balneari, come anche noi stessi, andremo a mantenerlo per tutta la stagione 2022. Ecco il distanziamento che viene tolto, però c'è poi il lato dei ripascimenti che invece creano un'altra problematica. Sì, perché comunque c'è ancora un discorso di erosione in atto e questa erosione fa sì che ci siano meno posti in spiaggia. Con la ripresa del turismo, con l'aumento dei turisti e dei vacanzieri, abbiamo bisogno di dare una disponibilità di posti e di ombrelloni che specie qui sul lato di Ponente è più ridotta, si ha più difficoltà a dare. Quindi anche questa diminuzione di risorse da parte della regione per i ripascimenti è un problema, è un problema da considerare in maniera pesante.